salve a tutti gente sono xpios e oggi siamo su il clean racing e volevo farmi una premessa allora il video che farò poi martedì vi accenno su che categoria sarà sarà il gioco veicoli cioè automobili quindi non vi dico altro saprete martedì bene partiamo subito allora 108 mila vediamo se posso mettere qualche potenziamento al monster truck no non posso mettere un ben amato cazzo andiamo a fare un po la luna forse era già un po che non portavo il clean comunque non mi ricordo l'ultima volta che l'ho portato bene facciamo il video tranquillamente ma che cazzo di salti che faccio hanno pieno mossa tra che diventa sempre più più potente più forte più veloce sì devo dire che sto facendo pochi soldi devo dire tom io so volare ok io so volare super hero l'uomo libellula che non sa volare dai cazzo 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 aspe aspe no 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 aspe aspe tu 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 torni indietro adesso bravissimo vai con un doppio backflip signori incredibile 2 100 mila ho fatto pochi soldi secondo voi ho fatto 100 mila madonna mia la proagine di backflip madonna mia adesso tra l'altro l'avevo anche superato sto pezzo eeeh morto neck flip si chiama oddio adesso devi fare un po di più però adesso montiamoci le sospensioni ma vediamo un po' con la gipina va quanti record quanto record è stato qual è stato il mio record allora qua 0 metri buonissimo qua 4049 metri qua 1664 1400 1300 eeeh chiedo scusa per la moto è passata una moto adesso eeeh ma si riproviamo l'autostrada va andiamo vedete non riesco a fare i video tranquilli già lo faccio proprio no raga niente gli altri li ho venduti ma Godin non l'ho ancora venduto non riesco a vendere io però pensavo di tenermelo sinceramente anche perchè Godin è forte ma parecchio anche vai gipino vai gipino spingi quei cavalli pochi che hai ci siamo quasi alla benzina per finta ci siamo quasi perchè l'ho mancata posso pompirla sono vabbè posso mettere un altro pezzo sulla gip cioè su monster truck fine benzina e andiamo a mettere il prossimo pezzo sul monster truck faccio un'ultima gara poi termino il video è stato un po' corto questo video di il cream bello è stato faccio un'ultima gara sulla luna mettiamo le gomme adesso devo fare 144.000 per la precisione 130 e posso aumentarmi il motore del monster truck alla faccia del salto raga vedete che la luna è troppo divertente però fai certi salti porca di una miseria e fai tanti big money big money madonna che bolo dai 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 tanti soldini niente non sono riuscito a mettere a fare i soldi per quel pezzo di 908.000 per la cronaca vabbè boh raga io spero che il video vi sia piaciuto è stato un po' così ho fatto un po' di garetto ho messo un po' di pezzettini spero che al prossimo video riesco a fare di meglio e boh alla prossima belli ok